Il giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone ha confermato con ordinanza, dopo il contraddittorio fra le parti, la sospensione dell'efficacia di uno dei tre degreti ingiuntivi che non è stati emessi su iniziativa di altrettanti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale per il pagamento di poco più di 25.000 euro, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione, riconducibile al trattamento accessorio per gli anni scorsi. Ha inoltre fissato l'udienza per la decisione sulla querelle al 29 giugno 2017. Secondo il giudice, in assenza degli elementi documentali e di calcoli, non si può verificare la correttezza delle somme pretese dal lavoratore, peraltro in assenza della ripartizione del fondo accessorio, la cui mancata adozione per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, più che incidere sull'esigibilità del credito, ne rende incerta la liquidità. Il giudice ha altresì rilevato l'inidoneità dell'attestazione dell'avvenuta effettuazione del turno a fondare l'azione monitoria. Già nel mese di gennaio il giudice, nel concedere la sospensiva richiesta dal Comune, aveva ritenuto sussistenti gravi motivi per disporre la sospensione e riconosciuto la peculiarità del caso in questione, sostenendo l'inidoneità dell'attestazione della venuta effettuazione del turno a costituire elemento probante per ottenere il decreto ingiuntivo. Secondo il Comune, il dipendente ha diritto alla retribuzione ma perciò che attiene al trattamento accessorio deve prima aspettare che venga definita l'intera procedura. L'ordinanza in questione è un ulteriore significativo punto fermo nella strada da noi seguita, commenta il segretario generale del Comune Carolina Ferro. Siamo impegnati a rafforzare l'attenzione agli aspetti legati, al contenzioso e alla correlativa capacità di intervento per evitare i danni alle casse dell'ente, avendo cura di esaminare in maniera approfondita tutte le questioni, anche le più particolari. I risultati ci stanno dando ragione. Una serie di provvedimenti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi e all'ottimizzazione delle risorse del Comune di Caltagirone sono stati assunti dal commissario straordinario ingegnere Mario Larocca. Essi si inseriscono nel solco dell'avviata azione di riduzione della spesa e di miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie dell'ente di Palazzo dell'Aquila. Fra questi provvedimenti rientrano l'approvazione dell'adeguamento degli stanziamenti delle entrate e delle uscite di bilancio 2016 e l'accontanamento di 513.712 euro a copertura di una quota di disavanzo degli anni 2012-2013. Ancora in materia di bilancio, altra delibera assunta in precedenza è quella con cui si è preso atto della relazione del ragioniere generale sullo stato di salute del Comune, certificando uno squilibrio di parte corrente finale per gli anni relativi al 2012-2013-2014-2015 che si attesta a 8.504.863.000 euro. In sostanza si accerta che gli anni 2014-2015 non consentono di assorbire il disavanzo complessivo degli anni 2012-2013. Altra delibera è destinata a produrre effetti sul piano della razionalizzazione della spesa ed è quella di approvazione della macrostruttura dell'ente. Con essa le aree organizzative del Comune di Caltagirone vengono ridotte da 6 a 4 nel rispetto della normativa applicabile ai Comuni di Sesto. Alle quattro aree organizzative si aggiungono due staff, di cui uno alle dipendenze del Sindaco e l'altro alle dipendenze del Segretario Generale. Via Libera pura il protocollo d'intesa per la realizzazione della rete di telefonia mobile del gestore Vodafone nel Comune di Caltagirone. Di rilevo anche l'atto di indirizzo per la definizione delle istanze di condono edilizio presentate dai cittadini secondo le previsioni delle leggi 47-1985, 724 del 94 e 326 del 2003. 21 finanziamenti diretti ed indiretti per un ammontare complessivo di circa 2.700.000 euro sono stati deliberati dal commissario straordinario dell'IRCAC Antonio Carullo. Si tratta di crediti di esercizio anche per le start-up di imprese a cooperative di nuova costituzione, di crediti a medio termine, alcuni per la ricapitalizzazione societaria, e di contributi e interessi per finanziamenti del sistema bancario. Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati, deputato del Movimento 5 Stelle, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si svolgeranno anche a Caltagirone il 5 giugno 2016. La città regina degli erei è stata presentata una lista di pentastellati che vedrà Giulio Sinatra, esperto di web marketing di 40 anni, attivista storico del gruppo locale, candidato alla poltrona di sindaco, oltre ad un utilito numero di candidati consiglieri comunali. Alfio Caruso presenta le suppliche dei siciliani agli angolo americani 1943, edito da appunto stampa editrice. Giorno 19 aprile 2016, alle ore 9, presso l'Istituto Maria Usiliatrice di Caltagirone, si svolgerà la conclusione del progetto Un viaggio nella memoria Caltagirone 43, del dottor Alfio Caruso. Il progetto, giunto alla terza edizione, ha visto la partecipazione delle scuole, Carlo Alberto dalla chiesa di Caltagirone, Istituto Maria Usiliatrice, Istituto Comprensivo Montessori, Scuola Media Giorgio Alcoleo e Plesso Fisicara. Inoltre si avranno interventi di una scuola media di Enna e una da Lentini, in totale più di 400 all'unico involti. Alle ore 18 poi si terrà sempre presso l'Istituto Maria Usiliatrice di Caltagirone la presentazione del libro di Alfio Caruso, le suppliche dei siciliani agli angolo americani 1943. Introduce Antonino Navanzino, presidente di Storia Patria e Cultura di Caltagirone. Sabato 16 aprile alle 18, nella Sala Conferenze dell'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo, in via degli studi, comincerà la quinta edizione di Lenti Progressive, incontro di storia, archeologia e comunicazione culturale. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Panta e dalla Società Calatina di Storia Patria e Cultura di Caltagirone, mira la scoperta e riscoperta del grande patrimonio culturale calatino e siciliano. Questo è il programma. 16 aprile alle 18, Nicolò Maccavino, docente al Conservatorio di Reggio Calabria, parlerà di la musica strumentale a Caltagirone nel 700. 30 aprile alle 18, Alfio Caruso, storico su Il Consorzio di Bonifica di Caltagirone, Le Origini. 7 maggio alle 18, Luca Naso, fisico su Astrofisica Starup e Big Data, da Caltagirone a Pechino e ritorno. 25 giugno alle 18, Michele Lì, archeologo su Ricognizione archeologica nelle terre di Ducezio, montagna di Caltagirone e Alto Brando. 24 settembre alle 18, Gianni Vullo, giudice cinofilo internazionale su Spino degli Iblei, storia del recupero di un'antica razza canina siciliana. 29 ottobre alle 18, Antonino Navanzino, ceramologo su Antonio Ragona, 1916-2016. Tutti gli incontri si terranno presso la Sala Conferenze dell'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone in via degli studi. In occasione del bicentenario della Diogesi di Caltagirone si svolgeranno nel mese di aprile i pellegrinaggi giubilari zonali alla cattedrale con il seguente calendario. Sabato 16 aprile le comunità di Vizzini con la reliquia di San Gregorio con partenza alle ore 17.30 sempre dalla Chiesa di San Francesco di Paola. Lunedì 18 aprile le comunità di Scordia con partenza alle ore 17.30 dalla Chiesa dell'Immacolata. Venerdì 29 aprile le comunità di Gran Michele con partenza alle ore 17.30 dalla Basilica di San Giacomo. Sabato 30 aprile la comunità di San Michele di Granzeria alle ore 17.30 con partenza dalla Chiesa di San Francesco di Paola. Domenica 17 aprile si svolgerà la festa dei Cresi Mati e Cresi Mandi organizzata dalla Diocesi di Caltagirone. Il programma prevede alle ore 9 l'accoglienza presso il santuario di Maria Santissima del Ponte. Da qui partirà la Marcia della Gioia verso la Cattedrale con il passaggio dalla Porta Santa. La festa si concluderà con la celebrazione eucaristica alle ore 12 preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Calogelo Peri. Conto alla rovescia per i campionati regionali di pattinaggio a rotelle e corsa su strada, categorie giovanissime ed esordienti dagli 8 agli 11 anni, che si svolgeranno domenica a 17 aprile alle ore 9.30 in piazza Bellini a Caltagirone. Saranno in pista per una prova non competitiva anche più piccole, dai 4 ai 7 anni, appartenenti alla categoria Pulcini. La manifestazione organizzata dalla SD Caltagirone Sud Simeto, col presidente Fabio Nagel, con il patrocinio dell'assessorato allo sport del comune e del comitato regionale FIHP Federazione Italiana Ok e Pattinaggio, vedrà la partecipazione di circa 200 giovanissimi provenienti da tutta la Sicilia, con la presenza dei piccoli e promettenti atleti della società calatina, una trentina fra agonisti e non. In occasione dell'evento è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la piazza Bellini, a partire dalle ore 7 sino alle ore 15, con ordinanza dirigenziale numero 56 2016 dell'8 aprile 2016. L'associazione Parlamente è letta di presentare l'evento Workout Playout, che si terrà giorno 24 aprile 2016 al boschetto di via Pietro Novelli a Caltagirone, a partire dalle ore 9.30 nell'area verde presa in gestione da tempo dall'associazione. Il progetto Calt Green One, cominciato nel marzo del 2015, giunge a compimento circa un anno più tardi. Nella mattinata del 24 aprile, con l'autorizzazione del Comune, grazie ai contributi donati dai cittadini, inaugureremo l'attrezzo ginnico per svolgere attività fisica all'aperto. Sarà una domenica in festa per celebrare questo obiettivo così tenacemente voluto e raggiunto. Vi invitiamo a partecipare ad una mattinata piena di sport, attività fisica e benessere. In più, Parlamente lancia la caccia al tesoro alle sette fatiche di Ercole, in tema con la giornata, e si terrà una caccia al tesoro che metterà alla prova le abilità delle squadre che vorranno iscriversi. La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi fino alla data del 17 aprile. La squadra vincitrice, oltre a impossessarsi del tesoro, avrà anche l'onore di partecipare al taglio del nastro e del nostro attrezzo. Chi non volesse partecipare alla competizione, può comunque godersi una mattinata all'aria aperta, in un'area rinnovata e viva, che sarà arricchita dalle dimostrazioni di sport quali arti marziali, scherma e shuttlecook, e la possibilità di partecipare ad una sessione di Zumba e una lezione di Pilates. L'invito è rivolto a tutti i cittadini di tutte le età, compresi i bambini che potranno divertirsi grazie alle attività gestite dal gruppo territoriale Nidi e Infanzia e in collaborazione con Chamfri. Grazie. 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 Grazie.